Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi è giornata di manutenzione, quindi piano piano si mettono a posto quelle cosucce che durante i viaggi d'estate iniziano a ballare, a fare rumori strani e uno di solito durante l'estate cosa fa alza il volume dell'autorario per non sentirli, però poi bene o male è costretto poi a metterci mano. Oggi vi volevo parlare di quello che viene chiamata la maledizione del Ducato, ovvero l'elettroventola che non parte se non al massimo della potenza. Vi faccio vedere. Merida, il nostro camper, è un Ducato del 2006 con motoristica JTD, quindi a libretto è un Ducato 240. Bene o male tutti quanti Ducato presentano lo stesso difetto, ovvero... se io giro il selettore della ventola, questo, parte soltanto al massimo. Sentite? A che cosa è dovuto questo? Spegniamo. A che cosa è dovuto questo? È dovuto ad un pezzettino, questo, che si chiama termoresistenza. Dove è posizionata? Venite qua, vi faccio vedere. Per il Ducato 240 il luogo dove si trova la termoresistenza è qui sotto il vano portaoggetti. È una piccola vite, tiene ferma la resistenza, si toglie dallo scompartimento, dall'alloggiamento e si fa la sostituzione. Se non siete sicuri, perché volete vedere prima qualche fusibile, vi consiglio di fare un piccolo corto con le pinze. Se vedete che saltando questa resistenza, perché il problema è questa resistenzina qua, che dopo un pochino di tempo smette di funzionare, saltate la resistenza facendo un ponte con delle pinze. Se vedete che la ventola ricomincia a funzionare, il problema è questo, altrimenti vi suggerisco o di verificare i fusibili o altrimenti di andare da un elettrauto. Io ho già fatto la prova, ho fatto un ponte con le pinze sulla resistenza per bypassare questa ulteriore resistenza e ho visto che effettivamente la ventola continuava a girare, alle varie velocità, quindi il problema è questo, e ho trovato il ricambio adatto. Mi raccomando, fate attenzione perché molte volte dicono che è adatto al tipo di Ducato quando invece non lo è. Fate sempre attenzione al suggerimento mio, fate sempre attenzione alla pinnatura interna e a quattro e a quattro poli, non a cinque, come per il Ducato 250. Quindi passiamo alla sostituzione. Mi raccomando, fate aderire bene bene fino al clac del morsetto di plastica e facciamo una prova. Sentite? Sta rifunzionando. Abbiamo risolto, quindi una volta preso e confermato che il problema era l'elettrovalvola, la prendiamo e la rimettiamo all'interno del suo alloggio, richiudendola. Molte volte il problema potrebbe essere anche relativo a quello che è la manopola del selettore. In quel caso è un pochino più complesso perché sarebbe da smontare tutto quanto il pannello frontale e nonché metà del cruscotto, quindi tanta roba di plastica che dopo un pochino di anni inizia a rovinarsi. Quindi fate prima queste prove intermedie. Se riusciamo a risolvere in questo modo, bene, altrimenti quello che posso suggerire è di rivolgersi sempre ad una persona un po' più esperta o ad un elettrovalvola. Ok, io ho risolto. Con poca spesa, massima resa. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like, commentate e soprattutto quello che chiedo sempre è di iscriversi al canale. Spero che con questo video possa aver aiutato qualcuno di voi nella risoluzione di questo problema, di questa maledizione dei Ducato e arrivederci alla prossima. Ciao, buoni chilometri! Grazie. 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 Grazie.